In che modo le divisioni del gruppo MEDER ELECTRONIC si distinguono univocamente dagli altri? È sicuramente la combinazione tra il nostro eccellente know-how e le nostre apparecchiature nel campo della tecnologia REIT. Ma c'è ancora di più. Da noi si respira un clima di apertura ed inventiva. La nostra intera organizzazione si basa sui punti di forza di ogni singolo membro del nostro personale, perché alla fine è proprio il personale che garantisce l'eccellente qualità dei nostri prodotti e servizi. Abbiamo creato un clima di fiducia reciproca attraverso la condivisione di informazioni e aggiornamenti periodici. Durante la pianificazione di nuovi progetti, teniamo in gran considerazione le opinioni e suggerimenti dei nostri dipendenti. Essendo una società ricca di innovazioni, nel nostro settore industriale è estremamente importante progettare e realizzare nuovi prodotti. Per questo motivo, noi non vogliamo semplicemente reagire a nuove tendenze, ma vogliamo assumere un atteggiamento proattivo, anticipando le nuove sfide con entusiasmo e ottimismo. La nostra forza è lo sviluppo di prodotti con nuovi standard e soluzioni personalizzate per i clienti. Sfruttiamo ogni possibilità per creare e migliorare continuamente. Secondo la filosofia di MEDER, siamo ottimisti per le sfide future, inclusi i nostri prodotti per il futuro.